Un nuovo DPCM, anche se l'unica idea di nuovo è data dal fatto che sia il primo del nuovo presidente del Consiglio, Mario Draghi. Sarà valido da domani e si trascinerà per un mese intero, fino al 6 aprile, inglobando di fatto anche le feste di Pasqua e quindi, grigliate all'aperto, off-limits per il secondo anno consecutivo. Ma entriamo nel merito. Nelle zone rosse verranno sospese le attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e le primarie. Nelle zone arancioni o gialle sarà facoltà dei governatori poter decidere se sospendere o meno l'attività scolastica, ma questo soltanto in casi particolari legati soprattutto al numero dei contagi. In tutta Italia sarà vietato spostarsi tra regioni, tranne che per motivi di lavoro, salute e urgenza, portando con sé il modulo di autocertificazione. Non si potrà mettere piede fuori dal proprio comune in zona rossa o arancione. Nel caso della zona rossa, niente visita ad amici e parenti, neanche una volta al giorno. In zona gialla, bar e ristoranti potranno restare aperti fino alle 18. Da quell'orario in poi è consentito l'asporto fino al coprifuoco delle 22 e la consegna a domicilio senza limiti di orario. Il divieto d'asporto dopo le 18 rimane però per barre simili senza cucina. Le attività commerciali saranno aperte con orari spesso scaionati e ingressi contingentati. Nelle zone rosse invece tutto chiuso, tranne negozi con beni di prima necessità. Nel weekend e nei giorni festivi e prefestivi, i negozi dall'interno dei centri commerciali dovranno restare chiusi, a eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. In zona rossa però queste restrizioni saranno ancora più stringenti in quanto potranno restare aperti soltanto alimentari, farmacie e negozi di prodotti agricoli e florovivaistici. Stesse regole per i mercati, palestre, piscine e impianti sciistici resteranno chiusi in tutta Italia mentre c'è una parziale riapertura per cinema, musei e teatri. Dal 27 marzo infatti nelle zone gialle si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema con posti a sedere preassegnati nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza però non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all'aperto e 200 al chiuso per ogni sala. Grazie a tutti.